In carcere da un anno e mezzo circa per una doppia condanna a otto anni per violenza sessuale, ma Filippo Roncato, 29enne di Loreggia, ex PR di discoteche, ha chiesto attraverso il suo legale uno sconto di pena di due anni e sette mesi, ovvero il periodo trascorso con misure restrittive dell'obbligo di dimora e di firma in attesa della condanna. Roncato è in carcere a Bollate per scontare una condanna di sei anni per aver abusato nell'agosto del 2015 di una quindicenne all'interno della discoteca Eurobite al Lago di Castelfranco Veneto, condanna confermata dalla Cassazione che nell'ottobre dell'anno scorso ha confermato anche due anni di pena chiesti in primo e secondo grado per un'altra molestia avvenuta nell'estate del 2016 in una casa di Massanzago, dove Roncato aveva tentato un approccio sessuale nei confronti della sorella minorenne del suo amico. Grazie.